ciao ragazzi oggi farò un tutorial su di me vi devo dire una cosa io sono metà angelo e metà demone come lussi che solo una particol... particol... particolarità cioè io mi posso trasformare in demone in angelo esatto io mi sono fatta così... cioè io quando voglio mi posso fare angelo quando voglio mi faccio demone avete capito? però le corna ce le ho sempre ma posso pure trasformarle in una tiara alcuni... alcuni youtubers inglesi o italiani fanno così pure alcuni ho visto alcuni video che fanno così però io me l'ho sottottenuta a mente poi ho visto i video alla fine quando ho scoperto che pure altri lo fanno se mi volete fare dei vostri video basta che vedete il tutorial mi metto sempre questi con le orecchie giù questi qui le pettinature che potete usare ve lo dico subito potete usare questa 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 e poi basta le corna siccome io la corona ho messo queste però le mie corna sono bianche e nere avete capito bianche e nere ora ve lo faccio vedere così sono come mia figlia ok così ok allora poi metto sempre queste a queste ali da demone non si vedono bene che sono nere quindi si vede con il giubbotto però mi piacciono un sacco alcune volte mi potete mettere questo giubbotto se volete alcune volte io non metto sempre i tacchi quindi mettetemi tipo così fate come volete vestitemi però io vi faccio tipo vedere come fare la cosa preferita che ho creato è sta cosa io ci sono io così 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 diciamo aspettate ok ok tipo così va bene ragazzi però fatemi come volete voi vi ho detto già però il collare lo mettete sempre ok il collare lo mettete sempre questo qui questo qui qui mi piace un sacco io me lo metto sempre io non me lo toglierò mai no alcune volte me lo toglierò però mi piace un sacco questo tutorial tutorial finisce qui e ora ciao ciao